Gianni Garcilos torna alla Sanitas, un altro giorno importante per questa città a cui donate il terzo defibrillatore con tanti progetti impegnati nel sociale e nel mondo sanitario, quindi ancora una bella soddisfazione. Sì, sicuramente sì, è un progetto che abbiamo fortemente voluto, la cardioprotezione del territorio è certamente un progetto importante, è una cosa importante e dopo un lungo percorso ci siamo riusciti. Alle mie spalle posizioneremo il terzo e ultimo defibrillatore sul nostro territorio, un territorio relativamente piccolo di 6.000 abitanti, però abbiamo raggiunto un buon numero di dispositivi, quindi da questo punto di vista possiamo essere soddisfatti. Tra l'altro il progetto ha previsto, oltre che il posizionamento dei DAI, dei defibrillatori, anche un percorso di formazione a cui ha partecipato un buon numero di cittadini, credo, vado a memoria, un centinaio, 100-110 cittadini hanno partecipato ai nostri corsi e quindi se a questo numero aggiungiamo anche i nostri soccorritori, i nostri ragazzi che quotidianamente insomma partecipano alle varie attività sociali, sociosanitarie che noi svolgiamo, credo che di essere molto soddisfatto abbiano raggiunto un buon numero di operatori DAI e quindi questo ci permette di dire in tutta sicurezza che Stornara da questo punto di vista è ben protetta. Dal Covid in poi siete stati impegnati in un progetto importante che è quello del taxi sociale, un punto di riferimento per questo territorio, per l'assistenza ai pazienti di cui hanno bisogno. Sì, noi abbiamo iniziato già dal Covid ad avere questo ruolo di presenza costante nella vita dei cittadini in difficoltà e diciamo che con il taxi sociale abbiamo raggiunto anche qui un risultato credo incredibile. Il progetto del taxi sociale è stato un progetto voluto fortemente dall'amministrazione comunale che ci ha sostenuto anche economicamente ed è un progetto attraverso il quale molti cittadini di Stornara possono usufruire gratuitamente della nostra assistenza e dei nostri mezzi per raggiungere i luoghi di cura, ambulatori e quant'altro per poter insomma curarsi. Parliamo di malati di cancro, di malattie neurologiche cronico-degenerative, di persone spesso che oltre ad avere questo tipo di problema grave hanno anche difficoltà economiche e quindi grazie a noi, ripeto e sottolineo gratuitamente, riescono a curarsi. Quindi grazie all'amministrazione comunale, grazie a Stornara Sanitas di cui io faccio parte è veramente un bel progetto. Ad oggi credo che abbiamo raggiunto quota 600 trasporti fatti gratuitamente abbiamo iniziato da giugno, maggio-giugno, quindi un numero veramente incredibile non credevo potessimo riuscire a raggiungere questo risultato. Complimenti ai miei collaboratori e ai ragazzi che ogni giorno si mettono a disposizione di chi ha bisogno. Roberto Nigro, sindaco di Stornara, per l'inaugurazione di questo terzo defibrillatore in città grazie a Stornara Sanitas che ha fatto un grande lavoro in questo territorio e in un territorio così importante, così pieno di criticità, è importante poter contare sulle associazioni. Sì, grazie all'associazione Stornara Sanitas e tutte le associazioni del paese che si impegnano quindi sono il cuore pulsante del nostro paese. Abbiamo installato tre punti nel paese per quanto riguarda i defibrillatori e abbiamo formato, quindi ha formato anche a Stornara Sanitas più di 70 persone per intervenire e vogliamo estendere anche questo alle forze dell'ordine ed è molto importante quindi prevenire e riuscire soprattutto a intervenire nel momento di bisogno soprattutto per le malattie cardiologiche che sono molto diffuse oggi. Progetto importante ma ce ne sono altre insieme a Stornara Sanitas come ad esempio il Taxi Sociale poco fa lo dicevamo anche con Gianni Carsillo, l'impegno concreto dell'amministrazione a fianco di questa associazione. Il Taxi Sociale ormai è una realtà, è una realtà presa da modelli per tutta la provincia e soprattutto da soffrire i cittadini che hanno bisogno di cure e quindi vengono accompagnati quindi nel loro percorso sanitario ed è molto importante, su questo punteremo ancora nei prossimi anni è una priorità dell'amministrazione e come anche una priorità potenziare dal punto di vista sanitario il nostro paese a breve quindi ci sarà anche il bando per quanto riguarda l'RSA e l'apertura dell'RSA che apriremo sicuramente quindi quest'anno prima di giugno e anche dal punto di vista del poliambulatorio abbiamo appena parlato con la direttrice del distretto per potenziare soprattutto i servizi del nostro poliambulatorio ci saranno delle novità anche per quanto riguarda la distribuzione dei farmaci anziché andare a Cerignola per prendere i farmaci ospedalieri quindi potranno usufruire di questo servizio una volta a settimana nel nostro comune e questa è una buona cosa per impedire ai cittadini quindi anche di viaggiare ogni volta per prendere i farmaci Dottor Sollazzo qui a Stornara per questo terzo defibrillatore in un tempo in cui le malattie cardiache sono in diffusione dopo il Covid è importante poter contare su questi presidi e sulla formazione soprattutto dei cittadini e sì soprattutto sull'integrazione ospedale-territorio che è fondamentale per salvare le vite quindi i primi interventi che poi vengono ottimizzati nei nostri pronto soccorso e nelle nostre unità operative quindi ben vengano queste iniziative Qual è il ruolo della sanità in questo momento storico? Ci sono tante criticità sotto il punto di vista anche dei presidi ospedalieri Quale deve essere l'impegno del personale sanitario in questo momento? Il personale sanitario è già impegnato ai massimi livelli il Covid ce l'ha dimostrato in tutti i sensi credo che ci voglia un po' la partecipazione degli enti locali e delle altre istituzioni ad affiancare il nostro sacrificio, il nostro lavoro quotidiano per tutti i cittadini